Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Ragazzi qua ho cominciato a fare il corridoio per la nuova stanza che purtroppo a causa di il solito tempo che manca Veramente è un periodo che non ho tempo per fare nulla ragazzi Meno male che adesso c'è il weekend e cercherò di registrarvi un po' di episodi anche extra Appunto come vi ho spiegato nell'ultimo video E qua credo che ci sia qualcosa di zombie o penso un dungeon o non lo so Perché continuo a sentire dei rumori abbastanza strani Comunque ragazzi nello scorso episodio avevamo finito e attivato e anche fatto un breve tutorial sulla fama di ferro Spero vi sia piaciuto e voglio fare giusto un piccolo appunto su quel video Dandovi un consiglio a tutti quanti Permettendo che non sono arrabbiato Premettendo appunto Non sono assolutamente arrabbiato Però voglio dirvi una cosa Ragazzi prima di commentare Guardate Guardate tutto il video Perché molti di voi hanno commentato Dicendo delle cose che io spiegavo nel video E ad esempio Molti, moltissimi mi hanno chiesto di essere salutati Quando io nel video ho detto Più di una volta Ho fatto anche 5 minuti di score su questo Che non saluterò più in questa serie Perché devo concentrarmi di più Devo anche pre-registrarla Devo organizzarmi meglio con questa serie Voglio che sia migliore E appunto E ho deciso che i saluti li spostano in live Nonostante questo Molti di voi mi hanno lo stesso scritto di essere salutati Oddio Perché? Ragazzi Guardate tutto il video Adesso vi permetto Non sono arrabbiato Perché poi qua la gente dice No, non ti arrabbiare Non sono arrabbiato State tranquilli Sono tranquillissimo Non è successo nulla Però Vi dico solo di guardare il video Nient'altro Niente di più Niente di meno Detto questo Detto questo piccolo rimprovoro Avete capito? Monelli 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 Ok, basta Andrò a spiegarvi Cosa farò In questo video In questo video Dovei fare lo smistamento chest Che avevo appunto Prenunciato Nello scorso episodio Sarà Da questa parte Lo smistamento chest Richiederà Oh Dio Non lo so Una decina di blocchi Per lato No, cosa dico Una ventina di blocchi per lato Quindi 20 per 20 Fa 200 400 400 Sì 400 blocchi Per due di altezza Almeno faremo di più di due di altezza Mettiamo mille blocchi da scavare Indicativamente Sicuramente più di mille blocchi da scavare Comunque Avremo un bel po' Di scavo da fare Quindi prima di farlo Voglio progettarmi per bene Lo smistamento chest Che faremo in questo episodio Appunto Che progetteremo in questo episodio Perché appunto Se posso risparmiarmi Qualche centinaio di blocchi Da scavare Non mi dispiacerebbe Ecco Risparmiamene qualcuno Quindi Cominciamo a parlare Appunto Mentre vi faccio vedere Che ho fatto cuocere O meglio Sì Dovrebbero aver finito Sì Ho fatto cuocere della roba Ok Perfetto Molto molto bene Mettiamoli qua Per ora Ho fatto cuocere della cobblestone L'ho fatto diventare stone Liscia E Devo farne cuocere altre Sì Devo farne cuocere altre Quindi farò una cosa Così Credo Sì Perfetto Perfezione Totale E Mi serve anche dell'altra cobblestone Ok Perfetto Quindi andiamo a mettere Cobblestone Carbone Carbone Cobblestone Cobblestone Cioè carbone e cobblestone Ok E Voglio parlarvi di Un attimino di Che cos'è lo smistamento chest Lo smistamento chest È un impianto Che Veramente Penso uno degli impianti più belli Che io conosca È stato fatto da Francis Drake Penso che Logicamente lo conoscete tutti Perché È uno youtuber Che mi ha veramente aiutato E Che seguo anche Molto bravo Appunto Ho fatto questo smistamento Che è un impianto che permette Di mettere degli item Dentro una cassa E di smistarli In altre casse In questo video Vi spiegherò Alcune cose Quali possono essere Il punto debole Dello smistamento chest Infatti l'ho studiato Veramente molto Mi sono messo proprio lì A Cercarlo di Perfezionare Di migliorare E alla fine ho scoperto che Non sono riuscito a migliorarlo Premetto Però ho scoperto Che è un punto debole Adesso Francis Drake Sta guardando questo video E dirà Ma perché Potevi far qualcos'altro Lo so Ti chiedo scusa ma Non ci posso fare niente Sono un rompiscatola Di per natura Io Mangiavo un po' di carne marcia Si Wow Non aspettavo altro Allora Carne marcia Scusate un secondo Devo Avevo un'altra fornace Allora quindi La La mangiavo davvero Questa carne Normale La mangiavo poi più avanti Allora Adesso Bando le ciance Vado a farvi vedere Qual è il punto debole Di questo smistamento Allora Eccolo qua Qua è già stato riprogettato Tra virgolette Perché ho deciso di cambiare Alcune cose Ho cercato di migliorare Alcune cose Ma Con Scarso successo Purtroppo Perché Allora Qual è il problema Di questo smistamento Prima di tutto Visto che È un impianto Di difficoltà medio alta Vi devo andare a spiegare Come funziona Allora Questa è la cassa madre Chiamiamola così Cassa madre E Qua andiamo a mettere Una scaletta Ok Non so perché Però io qua voglio una scaletta Ok Aspettate Voglio aggiustare un attimo Questo bordo Tac Tac Ok Allora Questa è la cassa madre Ovvero noi mettiamo Uno stacchi di diamanti qua Questo si smista E va a finire qua Ok Come funziona L'impianto Di redstone C'è il circuito di redstone Che c'è dietro Molto semplice Vedete È veramente Una cavolata Certo Allora Adesso vi spiego Vi spiego tutto Allora Poi andiamo Del ferro Ok Vi spiego come Smistare del ferro Poi andiamo magari Uno stacchino Ok Uno stacchino Questo qua Perché lampeggia Non ho la più pari D'idea Va bene Lo stesso Comunque Il problema Qual è Sto cercando Di migliorare Questo smistamento Premetto Non sto cercando Di sputararlo Allora La cassa madre Ha un hopper sotto Da questo hopper Partono tutti quanti Gli item Tutti gli hopper Guardano in questa direzione Tranne l'ultimo Che guarda verso il basso La seconda Strat di hopper Appunto Ho già fatto Una piccola modifica Consiglio a tutti quanti Qua nel frattempo Metto Time set zero Per mettere giorno Ah si può anche mettere Time set day Se non sbaglio Sì E comunque Vi consiglio Di mettere degli item frame Perché sarà molto più facile La programmazione E anche nel caso Il punto debole Che vi andrò a far vedere E appunto Dovesse entrare in atto Sarà più facile Di programmarli Grazie a questi Semplici item frame Comunque Il secondo Stratto di hopper Questo qua Deve essere Leggermente diverso Infatti Dovevo mettere Uno strato di cubi Posizionare tutti gli hopper Che guardano Verso questo strato di cubi E rompere tutto questo strato Che appunto Sarà tipo qua Dove ho messo questo Cosa ho fatto? Oddio Comunque Ah ok Ho fatto un piccolo danno Ma va bene Ok Andiamo a romper Tutti questi cubi E gli hopper Andranno E appunto Guarda in questa direzione Dietro avranno Questi comparatori Che produrranno Sempre Un Segnale Di uno Il segnale di uno Ok Mentre il secondo Pezzo di redstone Verrà attivato Perché appunto Bisogna attivarne due Solo quando Qua Passerà un altro item Quando passerà Un altro item Allora gli hopper Indipendentemente Dalla direzione In cui guardano E Puntano sempre A scendere Verso il basso Credo Per la forza E gravità Adesso non voglio fare Delle lezioni di fisica Comunque Gli hopper Invece che Appunto andare avanti In questa direzione Scenderanno Quindi Questo Se qua metto Un lingotto di ferro Il lingotto di ferro Cercherà di andare Adesso andrà qua Perché è l'ultima cosa Che L'ultima cassa Che non è stata programmata È questa Però cercherà di andare qua Però qua Troverà già tutto pieno Dei diamanti Da questo filtro Che vi spiegherò poi dopo E quindi andrà nella seguente Nella seguente Se troverà Il ferro Andrà qua Se non ci sarà il ferro Andrà qua Se non ci sarà neanche qua Il ferro Andrà qua Andrà avanti tanto Finché non troverà Il suo amato ferro Quando arriverà lì Si bloccherà nel filtro Perché c'è una Torcia di redstone Sotto Questo hopper Vedete C'è un altro strato di hopper Di nuovo che guarda Verso di qua E uno strato di torce Che Blocca tutto quanto Perché Vi ricordo Che se noi diamo Un impulso di redstone All'hopper Quest'ultimo Si blocca E non fa passare item Quindi Spiegato questo Noi bloccheremo Con una torcia Due hopper Perché Come vi posso spiegare Facendo questo Esempio Tipo così Allora mettiamo una torcia Un Aspettate Facciamo così Una torcia Molto semplice Un blocco E Sopra Una Lampada Di pietra rossa Oddio Cosa ho appena fatto Calma Ok Allora Tac Si accende Però se io vado qua Lei si spegne Ma se io faccio di nuovo così Si accendono entrambi Quindi Questo è per spiegare Che tutti e due gli hopper Rimarranno bloccati Ok Quindi uno Avrà il filtro E uno Avrà un item Solo dentro Adesso vi spiego Come funziona il filtro Allora Adesso noi appunto Vogliamo fare il ferro No Per programmare Il ferro Bisogna fare Un Eh Blocco qua Che appunto Come vedete qua sotto Eh Fa attivare il circuito Poi cominciamo a far così Per ben 5 volte Facciamo 5 5 strati di Lingotti Ancora uno in fondo Perché Ce ne serve uno in più Per l'impulso E uno qua che sparisce Quindi di prova Questo qua che è sparito Andrà direttamente Nell'hopper sotto Ma si bloccherà Lì non andrà ancora Nella cassa Oddio cosa fa Cosa sto facendo Calma Non fare dei danni Ferre Magari Grazie Ehm No Ho fatto dei danni invece Oddio Allora Scusate Vedete che è molto semplice Ehm Fregarsi Ok Allora Nel secondo hopper Ci sarà l'ingotto E da adesso in poi Abbiamo programmato appunto Il nostro Il nostro hopper Perché quando noi Andremo a mettere Un lingotto qua Il lingotto partirà Andrà qua Troverà Solo diamanti Quindi non potrà scendere Andrà qua Qua sotto Troverà i lingotti Quindi scenderà Andrà qui Ehm Entrando qua Ehm Appunto avremo Ehm 5 10 15 20 21 22 23 item Con 23 item Accenderemo anche il secondo Ehm Puntino di redstone E Accendendosi questo Accenderemo il Ripetitore sottostante Che andrà a spegnere Momentaneamente la torcia Facendo così Scorrere Gli item Ok Questo qua è il meccanismo Di Francis Drake Questo l'ha fatto tutto quanto lui Quindi già qua Direi che è stato Veramente bravo Cavolo Ha fatto veramente Un bel impianto Ehm Credo che Per fare una cosa del genere Ci vorrebbero dei mesi Per me Ehm Perché è veramente una cosa Bestiale Veramente bestiale Poi beh Ehm E' stato creato questa cosa Nella 1.5 Quando c'è stato il cosiddetto Redstone update Dove sono state intornate Un sacco di cose per la redstone Infatti sono sbucati fuori Centinaia di impianti In pochissime settimane Anch'io ne ho fatti alcuni Ehm Comunque Ad ogni modo ragazzi Ehm Qua abbiamo Il nostro smistamento Oddio se riesco a parlare Adesso vi vado a spiegare Come Ehm Andare a Ehm Perfezionarlo Perché appunto Ho un punto debole Che vi spiegherò ora Ok Qual è il punto debole Dello smistamento Molto molto semplice Lo smistamento Ehm Lo smistamento c'è Nel frattempo Mettiamo di nuovo giorno Perché Cosa faccio Perché Oddio T Sle Cosa sto scrivendo Sle Ah T slash Time set Zero Ok Sono Tivo le zampate sulla tastiera Io Comunque Il punto debole è questo Lo smistamento chest Può essere utilizzato Solo per materiali Che Ehm Ci Diciamo Ci danno Ehm Come posso dire Pochi Ehm Pochi Item Tipo il diamante Non avremo mai Tanti stack così Ne avremo Tanti così Già possibile Adesso Spariscono Perché vanno Nel circuito Che ho fatto io E che è quello Sottostante Infatti L'ho diviso Con queste scalette Allora Comunque Spieghiamo un attimino Cosa succede Se io faccio Una cosa del genere Quindi Programmo La cobblestone Che adesso Non farò Perché mi sono Fatto un sedere Così per Riprogrammarlo Tutto Quindi Non voglio Assolutamente Farlo E comunque Se io faccio Della cobblestone Vado a riempire Una doppia cassa Intera Quando la doppia cassa Intera È piena Si andrà a riempire L'hopper Che vi ricordo Deve avere Solo un item Dentro Come dimostra Chiaramente Questa Chiarissima Immagine Riempirò Anche facilmente L'hopper Con la cobblestone Perché Il cobblestone È infinita Praticamente In minecraft Qua invece Andrò a riempire Poi quest'hopper Quando comincerò A riempire Quest'hopper Sarò fregato Perché andrà Un pezzo di cobblestone Qua Si attiverà Il comparatore Che dirà Oh cavolo C'è un item In più Smistiamolo Dall'impulso Repeater Il repeater Toglie l'impulso La torcia E la torcia Fa partire l'hopper L'hopper dice No sono pieno Di cobblestone E non posso andare Chiede alla cassa Dalla cassa Risponde No anch'io sono piena Allora chiede A quello sopra E gli dice Siamo tutti quanti pieni Come facciamo? Spostiamo L'impulso Quindi farà Tac E andrà a dare impulso Anche qua Quindi Attiveremo anche Il secondo Hopper Quindi la roba Andrà anche Nel secondo hopper Se non basta Andrà anche nel terzo Nel quarto Nel quinto Nel sesto In pratica Si attiverà Tutti quanti Le altre casse Di smistamento Nel raggio Di 16 blocchi Appunto Toglendoli la programmazione Non programmandole E noi Dovemmo andare A riprogrammare 16 casse Per lato Più una Sì Quindi dobbiamo Riprogrammare Circa una Trentina Di casse Sì Una trentina Di casse E No di più 33 casse Se non sbaglio Comunque dobbiamo andare A riprogrammare 33 casse E Visto che Ho una farm di ferro E anche In quella Credo che Andranno molti Ringotti Perché noi Collegheremo Qua Metteremo Un hopper Madre Qua dietro Nascosto Sempre Un hopper Madre Che andrà a portare Tutti i drop Di tutte le altre farm Che abbiamo intorno In questa cassa No E Se noi di qua Abbiamo la farm di ferro Qua abbiamo Un'altra farm Qua abbiamo Un'altra farm Che tutte quante Si collegano qua Adesso Prendiamo Appunto La farm di ferro Il ferro Arriverà qua Da solo E andrà facilmente A riempirsi Questa cassa Si andrà a riempire Molto Molto Facilmente Quindi In breve tempo Rischieremo Di avere Una deprogrammazione Oddio che termine Di tutto Il circuito Questo è il punto debole Del Dello smistamento chest Quindi Lo smistamento chest Può essere utilizzato Solo E qua Dopo questo spiegone Che Sono sicuro Che sarà stato difficile Da capire Spero che Molti di voi L'avranno capito Ma Se non l'avete capito Ditemelo Però È complicato A spiegare Non ne sono io Che sto spiegando male È proprio Complicato Ragazzi È come Spiegare Gli algoritmi A un bambino Che fa elementari Non è molto semplice E Quindi Detto questo Io ho inventato Questo circuitino Molto semplice Che adesso Direi Che andrò a rifare Un attimino Perché si può ancora Migliorare Oddio guardate quanti diamanti Si può ancora Migliorare leggermente Adesso vi spiego come Allora Togliamo un attimo Questi hop Adesso non guardiamo Cosa c'è qua Per carità Mettiamoci Mettiamoci Degli slab Qualcosa da coprire Perché non voglio assolutamente Vederlo Ok Andiamo a coprire tutto Ok Facciamo fin di questo qua Sia il nostro circuito E basta Ok E Bisogna fare una piccola modifica Ragazzi Perché qua appunto Il circuito non funziona Quindi cosa faremo Faremo una cosa Del genere Andiamo a mettere un'altra cassa Adesso andiamo dietro Logicamente Perché tutta la parte Di redstone Si fa dietro Andiamo a mettere Delle scalette Qua Ok E andiamo a mettere Qua Delle Delle casse in più Ok Delle cassette in più Ok E qua andiamo a mettere Degli hopper Mettiamo gli hopper Mi raccomando Prima di metterli Assicuratevi Che non sia in funzione Lo smistamento Quindi magari Mettete Giusto un secondo Un cubo di redstone Qua Ok Lo mettete qua Ragazzi Oddio Quindi siete sicuri Che quest'hopper si blocca E non fa passare nient'altro E appunto Poi andate a fare questo lavoro Ovvero Andate a mettere Degli hopper qui Ok Si se riesco a star fermo Ok E avremo Tutto il materiale Che va in questa cassa Eh si Tutto questo materiale Che va in questa cassa Adesso è bloccato Sempre dalla Torcia di redstone Perché si è sincronizzato Con quest'hopper E scenderà E andrà giù Adesso vi faccio vedere Che se io prendo Del diamante Lo metto qua dentro E Questo diamante Non parte Perché c'è il blocco Di redstone Allora io rompo Il blocco di redstone Il diamante parte Lo vediamo che arriva qua Arriva qua Scende Va nel filtro Nel filtro vedete che Lampeggia 1,2,1,2 Scende qua sotto Arriva qui Qua sotto arriva nella cassa Nella cassa Non lo vediamo nemmeno Perché passa subito Direttamente A quest'hopper Che lo manda In questa cassa Sottostante Sì Va in questa cassa Sottostante Perfetto Questo è il meccanismo Che è molto semplice Un hopper E una cassa Per Non dico Sistemare il bug O meglio Questo difetto Che ha il circuito Di Francis Ma piuttosto Per prevenire Eventuali rotture Perché logicamente Prima che si riempano Due doppie casse Teoricamente Ce ne dovremmo accorgere E Non so Se ce la farò per il ferro Questo è l'unico problema Io logicamente Spero di farcela Comunque Anche Guardate quanto ferro Ci vorrebbe Non credo Di riuscire a fare Una cosa del genere Perché comunque Ferro Ne utilizzeremo sempre molto Quindi andremo a fare Altri circuiti Per La Red Per No la redstone Scusate Per la cobblestone E per la terra Ok Spero di non avermi annoiato Con questa parte È uno spiegone Lo so Odio fare gli spiegoni Però È anche una delle cose Dove sono più bravo Fare Appunto Questi impianti Questi circuiti Cercare di sistemare Un po' le cose Quindi Mi piace Cercare di Far capire anche voi Comunque Spero di non avermi annoiato Beh il video Logicamente non è finito Faremo ancora qualcosa Adesso Di più divertente E niente Questo è quanto Questo è lo smistamento Che avremo Quindi sarà alto Circa Mentre qua Dobbiamo Volevo Andare a fare Ancora una modifica Ovvero Segnalare Quando questa cassa È piena Come si fa? È molto semplice Si va a mettere Un comparatore qua Ok Un comparatore Due comparatori Però Si attivano subito Perché basta Che ci sia dentro Un item Quindi Cosa faremo? Andremo a mettere Qua sotto Del redstone Ok No scusate Andremo a mettere Qua sotto Del redstone Che però Non si può mettere Perché Teoricamente Andrebbe a infastidire L'altro Hopper L'altro Scusate L'altro Repeater Adesso vediamo Un secondo Se è tanto Fastidioso Vediamo un po' Qua ci va Un blocco Di glowstone Credo Vediamo un attino Luce Pietra luce Perfetto Adesso sto facendo Tutto quanto con voi Quindi non so Se funzionerà Ok Qua un bloccatino Di redstone No infatti Non funziona No Qua ci va per forza Un repeater Quindi Quindi qua Redstone Repeater Ok Che andrà a dare impulso Andrà a dare impulso Esattamente A questo cubettino Di redstone E quindi Magari qua si potrebbe Anche allungare Un pochettino La cosa Andiamo un attimino No non credo Che si possa allungare Non credo Non credo proprio Allora forse Eh ma Varebbe una cosa Costosissima Fare tipo Un tunnel Di redstone Eh no Credo che non si possa Semplificare Più di così Allora Tac Tac No solo di Repeater Perché altrimenti Poi si va Va in conflitto Con le altre Quindi facciamo così 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 Ok qua andiamo a mettere Una lampada Altra redstone E così dove No redstone Cosa dico Repeater Sempre Sempre ed esclusivamente Repeater Ok Quindi Repeater E repeater Senza blocchi qua Altrimenti succederà Un po' da track Soltanto un blocco qua Ok E niente Questo è più o meno Quello che otterremo Però è abbastanza inutile Perché Vedete che Il coso rimarrà Praticamente sempre acceso Adesso sì Qua abbiamo un botto Di diamanti Cosa ho appena fatto Le butteremo Un bel po' Ah non so se sentite In sottofondo La musica Del Colone Nessonore Di minecraft Mi piacciono abbastanza Se volevate saperlo Comunque buttiamo via Giusto un po' di diamanti Qualche stacchino Ok E Notiamo con piacere Che L'impianto Non funzionerà Vediamo un attimino Beh Tanto è tutto pieno Ragazzi Lasciamo stare È abbastanza inutile Questa cosa Quindi non la andrò a riportare Ma Musica Dopo un po' rompi Le valvole Quindi magari Abbast No beh Sì è abbastanza bassa Beh dai ti lascio stare Niente ragazzi Questo È il circuito Che andremo a fare Quindi adesso parliamo Un attimino Del nostro mondo Di cubi Oddio Mi ha fatto scoppiare Il cervello Questa cosa Perché è veramente Complicato Anche per me Spero di non Spero di non avervi Fatto anche voi Andare fuori Di testa Però appunto Vedete che Cavolo di Meccanismi assurdi Ci sono dietro All'Helston E ancora Questo qua Non è uno degli impianti Veramente più difficili Che abbiamo mai visto Ho visto impianti Molto più difficili Che Io sinceramente Non farei neanche In creativa Perché Sono spaventosi Ragazzi Ho visto cose Che voi umani Non potete neanche Immaginare E quindi Adesso andiamo a vedere Un attimino La nostra fama di ferro No beh Poi andremo a fare Il meccanismo Che ce l'ha Aggiusta da solo Cioè che la porta Tutta quanta qua Automaticamente E allora Si è decisamente Troppo piccola Questa stanza Quindi andiamo Prima di tutto Ad alzare il soffitto Di due No di due Uno due Tre quattro Cinque Si Di due Dove essere alzato Il soffitto Ok Anche se Dovremmo fare Una piccola modifica Dovremmo fare Una parte alta Sei Per far partire Tutti gli item Comunque Qua ho rotto Pure il piccone Non voglio fare Assolutamente Andare quello Con fortuna Quindi mi vedo Costretto Ad andare Incantare Altri picconi A proposito Di picconi Con i dodici Lingotti Che abbiamo Tenuto Nello scorso Episodio Sono andato A craftarne A craftare Alcuni Picconi Appunto Con gli scorsi Lingotti Cioè con gli ultimi Lingotti Allora Eccoli qua E volevo fare Una cosa abbastanza Figa E Richiuderò Un bel po' Di lavoro Off camera Cioè io Personalmente Non dovevo Fare niente Dovevo Semplicemente Far passare Il tempo Perché adesso Mi metterò In fk Nella fam Di scheletri Però Vole fare Una cosa Allora Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve L'alambicco Mi serve Mi serve Mi serve Anche Una Netherwart Una Un melone Ecco No Il melone Non ce l'abbiamo Volevo fare Una pozione Di danno Istantaneo E ammazzare Tipo 300 Mob In un colpo Ma non è possibile Come posso fare Facciamo un piccolo Testo in creativa Ragazzi Mi è venuta Una cosa in mente Che È Veramente Da malati Però se per caso Funzionasse Sarebbe epico Allora Mettiamo Mattino Giorno Allora Uno dei progetti Prossimi Che ho È quello Di inventare Un metodo Di Autokilling Cioè Senza che Noi stiamo lì A picchiare Col pugnetto Voglio una cosa Che lo faccia Al mio posto Tipo una pozione D'anno istantaneo Che ne fa tanti In un colpo Ma C'è anche una cosa Chiamata TNT Eh Si lo so Si lo so Allora Vediamo Adesso verrà Una cosa assurda Ho TNT Poi mi servirebbe Dell'acqua Si decisamente Dell'acqua Mi servirebbe Uno zombie Zombie Carissimo Amico Ok Zombie Oh zombie Dove ho messo Tu uovo Oddio Zombie Ok Allora Zombie Vieni qua Ok Pure paesano Andiamo a fare Una cosa Del genere Andiamo a fare Una cosa Del genere Andiamo a fare Una cosa Non così Assolutamente Credo Piuttosto Così Ok Allora Tac 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 Ok Perfetto Così dovrebbe funzionare Allora Questo dovrebbe funzionare Come metodo di autokilling Spero di non fare dei danni Invece li farò sicuramente Però Io me lo auguro Allora Forse è meglio Forse è meglio far così Ho potuto fare dei danni veramente ragazzi Non sto scherzando Allora Facciamo una cosa così E così Perfetto Allora Teoricamente questo blocco di dinamite Non dovrebbe far esplodere cubi Perché c'è dell'acqua vicino Ma dovrebbe far danno Allo zombie Vediamo un po' No Lo zombie Sembra stare bene Zombie Perfavore Ma perché Sei così pollo Ti devo far bruciare sotto la luce del sole Non direi proprio Allora Facciamo così Proviamo a fare del danno Ok Allo zombie Si Muore così Ok Quindi ho in mente un'idia malata Allora ragazzi Non ve la spoiler E Oddio Le porte che si aprono a sole E non ve la spoiler Adesso vado a dormire Ci vediamo tra poco Dalla farm di Scheletri Con un botto di scheletri E questo circuitino Ah E logicamente Prima vi faccio vedere Come si crafta La TNT Che non l'abbiamo mai fatto Allora Si crafta con sabbia E polvere da sparo Molto semplice Il crafting Così Allora Tac Beh molto semplice Si fa per dire No E l'incontrario Giustamente Ok Si fa così E così Perfetto Questa qua E' un blocco di TNT Che andremo ad attivare in seguito Si attiva con L'acciarino Che adesso dov'è Non lo so E Beh la possiamo attivare anche con la redstone Ma si dai Lo attiviamo con un cubo di redstone Non dovrebbe cambiare nulla Quindi Direi che Faccio questo piccolo stacco E ci vediamo Tra poco Ok ragazzi Rieccoci Guardate quanto sto raggando E perché questa stanza Ha circa Qualche migliaio di scheletri La dentro Quindi Cosa farò adesso Li ucciderò tutti Mettendoci Un bel blocco di dinamite E attivandolo Ok tappato Oddio Oddio Il patatrasse Oddio Cosa è appena successo Oddio Che lag assurdo Ragazzi Mamma mia Non mi è mai successa Oddio 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 Basta Basta No Ragazzi No Questa cosa qua è fantastica F5 Come se Mamma mia Ok non è neanche bastata Per un pelo Andiamo a prendere Questa vacca avanzata Oh mio dio Oh mio dio E vediamo un pochettino La Cassa E' piena di roba Oh mio dio E' assurdo E' veramente assurdo Sta cosa ragazzi Porca miseria Avete visto quanti cavoli di livelli Mi sono scesi E in catto pure Ancora un piccone Ma si In 5 secondi Abbiamo ottenuto Tutta questa roba qua E Ragazzi E' una figata Ok Direi comunque che Per questo video E' tutto E' Si un like me lo dovete lasciare Per questa Min Proprio costruzione Piccolissima Che però E' devastante Mamma mia ragazzi Avete visto che cavolo di Quanta cavoli di esperienza Ho ottenuto Per incantare 3 picconi Ho ottenuto circa Un centinaio di livelli Quasi Assurdo Comunque ragazzi Io direi che Per questo video è tutto Io come al solito Vi ringrazio Spero che il video Sia stato di vostro gradimento Spero di non avervi annoiato E quindi Non mi resta che Appunto Salutarvi Dirvi ancora una volta Grazie E invitarvi a lasciare un like Perché youtube è stronzo Commentare Iscrivervi E Spiro che il video vi sia piaciuto Anche se ho fatto un bello spiegone Se ho fatto un bel Un bel 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 Però Direi che per questo video è tutto Si un po' E me ne ammazzo anche a mano Altrimenti divento scemo Quindi io vi saluto Qua è pieno questo Ah Si sta ancora smistando Quindi io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti